Ehi, guardatela! Il radio-cuto! Eh? Guardate lì! Che cosa? Eh? Che tocchi! Sì! Accidenti, il re di Okuto e Tocchi! Tocchi! Eccomi, Ken! Bene, abbiamo la famiglia di Okuto al completo! Sarà meglio che tutta ne vada! Chiunque vorrà affrontare Ken dovrà prima vedersela con i suoi fratelli maggiori! Sono stato chiaro, Souser? Ha 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 ha! Quando nella scuola di Nanto esiste confusione, quella di Okuto appare e conquista il potere! Ma questo non è il nostro caso, perché grazie ai tre fratelli di Okuto potrò finire la costruzione della mia piramide! Ma questo non è il nostro caso, 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 non è il 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 caso, non è il